La maggioranza politica non c'è più, il sindaco riservato si dimetta. A caldo le forze d'opposizione in consiglio comunale a Trani chiedono il ritorno alle urne dopo che questa mattina la seduta, convocata per approvare il bilancio consuntivo del 2013 e quello di previsione per il 2014, è andata deserta per le assenze nella maggioranza che, va detto, si è sottigliata rispetto a quella uscita dal voto di due anni fa. All'appello mancavano i consiglieri Emanuele Cozzoli, Giuseppe Gagliardi e Franco Altamura, così da lasciare solo 14 rappresentanti della maggioranza. Nessuna stampella dalle forze d'opposizione gli altri 14 consiglieri presenti che hanno atteso fuori dall'aula consigliare che si consumasse la faida tutta interna alla maggioranza che sostiene il sindaco riservato. Del resto, ragionano i consiglieri d'opposizione, non potevano certo essere loro a lanciare la ciambella di salvataggio in questa occasione, visto che all'ordine del giorno c'erano due deliberi a cardine per un'amministrazione, appunto i due bilanci. L'opposizione è convinta che la maggioranza politica non ci sia più, che la crisi all'interno della stessa non si sia risolta con l'azzeramento della giunta e la nomina del nuovo esecutivo da parte del sindaco e che lo stesso debba presentare le dimissioni. Il nuovo appuntamento con il consiglio comunale è tra poco meno di una settimana. Ci si vedrà il prossimo 31 luglio per approvare i due documenti economici.